Tra i VIP presenti a Torino per la seconda giornata dei gironi delle ATP Finals, anche Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, insieme ad altri icone del calcio come Antonio Conte e Andrea Pirlo. Il loro tifo era tutto per Yannick Sinner, che ha superato Taylor Fritz con un doppio 6-4. Dopo il match, Sinner ha incontrato Allegri nel backstage, regalando un momento divertente documentato dalla Federtennis su Instagram. Tra bracci e strette di mano, il giovane tennista ha esordito scherzando, ho visto un grande rovescio ieri. Allegri, divertito, ha replicato con un elogio e un pronostico ironico, avevo previsto un 6-2, però bravo lo stesso. Sinner, con un sorriso, ha risposto, magari, ma va bene così dai. Con questa vittoria, Sinner si avvicina sempre di più alle semifinali, ma dovrà prima affrontare un'ultima sfida decisiva contro Daniel Medvedev. Il video è stato sempre aggiornato.